bentornato goodlier bentornata dopo aver installato il sistema operativo andiamo a vedere cos'altro c'è da fare subito una domanda che impressione hai avuto appena hai visto la nuova interfaccia del sistema operativo windows 8 se prima non l'avevi vista un po' disorientato un po' disorientata vero beh questo è ciò che è accaduto a me ma vedrai che con un po di pazienza il disagio iniziale si ritrasformerà in nuovo agio e potrai così impiegare questo sistema operativo come i tuoi precedenti sistemi prima di utilizzare il sistema operativo però dovrai attivarlo cos'è l'attivazione è il processo che permette di attivare appunto il sistema operativo questa operazione è necessaria per confermare che la tua copia del prodotto acquistata non venga installata sul numero di macchine superiori a quello stabilito nel contratto di licenza che ogni utente acquista e anche se il programma che hai acquistato è genuino se in pratica in casa hai due computer o anche più ed hai acquistato una copia di windows 8 le cui condizioni d'uso prevedono l'installazione su un solo pc potrà installare tale sistema solo su un computer dovrai alternativamente acquistare un contratto multi licenza per più computer se hai acquistato invece un nuovo pc oppure un notebook con windows preinstallato in teoria dovrebbe già essere attivato ma potrebbe tuttavia essere necessario attivare il sistema operativo anche in caso di cambio sostanziale dell'hardware nel tuo computer già in uso ciò prevede la necessità di riattivare il prodotto il tempo necessario per attivare la copia del sistema operativo è fissato nell'ordine di 30 giorni o dalla prima accezione o dall'installazione nel caso non attivarsi programma entro tale termine esso ti alletterà in vario modo e subirà anche alcune limitazioni per attivare il sistema operativo esistono diverse strade normalmente se hai una connessione ad internet ed in fase di installazione ha inserito il product key il sistema esegue tale operazione in totale autonomia senza che tu debba fare nulla ti mostro comunque le possibili azioni da attuare se dovesse seguire invece manualmente tale attivazione sia che avvenga autonomamente sia che avvenga manualmente il processo è completamente basato su un software di verifica autonoma non richiede quindi altre attrezzature o altri software infatti durante la procedura verrà generato un codice numerico definito id di installazione e sulla base di questo codice avverrà la verifica della legalità del programma acquistato e la sua attivazione il codice viene generato da un algoritmo matematico automaticamente il quale associa il software all'hardware fornendo un univoco codice di installazione per l'attivazione le informazioni collezionate durante tale processo non saranno utilizzate per identificare l'utente l'attivazione può avvenire come detto via internet ma anche via telefono la più rapida ovviamente è via internet nella quale tu dovrai assecondare il processo tramite qualche clic quella via telefono necessita una tua telefonata naturalmente ad un centro servizi microsoft da cui risponderà un disco automatizzato e al quale dovrai fornire il codice identificativo esso in seguito ti fornirà il codice di attivazione che dovrai digitare nei campi relativi per completare l'attivazione come si esegue? verifichi innanzitutto lo stato di attivazione del sistema accedendo alla voce sistema del pannello di controllo qui rappresentato uno screenshot e quindi dovrai individuare questa zona con la visualizzazione di due sigle una chiamata attivazione di windows con la scritta appunto in questo caso windows non è attivato e accanto troverai il pulsante visualizza dettagli in attivazione di windows visionerai a questo punto una schermata simile a questa con uno o due pulsanti una parte finale del product key ed altri pulsanti che ti potranno guidare nella risoluzione dei problemi o per ottenere informazioni utili naturalmente se hai una connessione ad internet comparirà soltanto il pulsante attiva ma in questo caso ho simulato un pc non connesso ad internet e infatti comparirà anche il pulsante attiva tramite telefono per attivare naturalmente tramite internet detto che comparirà soltanto il pulsante attiva clicca su esso e segui semplicemente che tutto proceda senza alcun errore infatti verrà acquisito il product key che magari avrai precedentemente inserito in fase di installazione e dopo una verifica di genuinità del product key stesso verrà attivato il sistema operativo in maniera del tutto automatica invece nel caso non avessi la connessione ad internet dovrai cliccare sul pulsante attiva tramite telefono cosa accadrà? vedrai innanzitutto una schermata del genere un menu a tendina ti permetterà di selezionare naturalmente Italia o il paese di appartenenza dopo di che cliccherai su avanti e nella nuova schermata ti compariranno due passaggi nel primo passaggio i numeri di telefono a cui potrai chiamare per richiedere l'attivazione nel passaggio 2 troverai una serie di 9 gruppi di numeri che dovrai digitare durante il processo ecco qui rappresentato lo screenshot nei quali troverai appunto i due numeri di telefono a cui potrai scegliere di chiamare e nel passaggio 2 troverai 9 gruppi di numeri che dovrai inserire tramite la tassiera del telefono durante il processo di attivazione all'inizio una voce registrata ti fornirà alcune informazioni sullo svolgimento dell'attivazione e infine ti chiederà appunto questa stringa numerica identificativa successivamente dovrai naturalmente ricevere una serie di altri numeri che dovrai trascrivere e inserire nei campi compresi tra A ed H è conveniente scrivere sul foglio di carta questi numeri prima di digitarli perché la sequenza di dettatura è molto rapida durante questo processo il pulsante attiva sarà non in rilievo subito dopo l'inserimento della serie di numeri da A ad H verrà appunto attivato tra le pulsante e cliccandoci sopra potrai portare a termine l'attivazione al termine clicca pure sul pulsante chiudi si presenterà a te la schermata iniziale con la scritta a questo punto Windows è attivato un'ulteriore conferma dell'attivazione l'avrai dal pannello di controllo sotto la voce sistema nel quale troverai appunto Windows è attivato eccoci gutier nella nuova interfaccia del sistema operativo Windows 8 da queste PSL andiamo a individuare il pulsante desktop clicchiamoci sopra per accedere appunto alla schermata desktop qui è presente in particolar modo il pannello di controllo cliccaci sopra per accedervi appunto una volta aperto il pannello di controllo individua il pulsante sistema e cliccaci sopra noterai appunto che Windows non è attivato e clicca accanto al pulsante visualizza dettagli in attivazione Windows nella nuova schermata due pulsanti uno attiva per attivare tramite internet e poi attiva tramite telefono cosa che faremo in questa sede cliccandoci sopra si aprirà una schermata nella quale tramite un menu a tendina potrai selezionare naturalmente Italia dopo la selezione clicca su avanti per accedere alla nuova schermata nella quale troverai nel passaggio 1 i numeri di telefono che potrai comporre per avviare l'attivazione di Windows e nel passaggio numero 2 la serie di 9 numeri che dovrai digitare tramite il telefono e comunicare quindi all'assistente elettronico della Microsoft per ricevere nel passaggio numero 3 il codice identificativo che dovrai inserire nelle sezioni comprese tra la lettera A e la lettera H ti ricordo che per semplicità è meglio scrivere su un fogliettino di carta la serie di numeri in quanto la dettatura è molto rapida dopo aver trascritto tutta la serie di numeri il pulsante attiva in questa schermata entrerà in rilievo e potrà essere cliccato per portare a termine l'attivazione dopo qualche secondo ti comparirà una nuova schermata che ti confermerà l'attivazione completata e tu dovrai semplicemente cliccare sul pulsante chiudi e in ultimo avrai un'ulteriore conferma in questa schermata del pannello di controllo a questo punto tutto sarà terminato come puoi vedere più lungo nella descrizione che a farsi bene nella prossima lezione ti parlerò dell'interfaccia a piastrelle ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Calle e alla prossima